Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud, chi vi parla è il vostro sempre più mezzelfo puzzillo e oggi vediamo la recensione del film Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Prima di partire giusto qualche premessa, io mi chiamo Vincenzo e gestisco un canale YouTube di giochi da tavolo, come potete ben vedere, dove faccio tutorial, recensioni, gameplay, classifiche e vari contenuti inerenti a quel mondo. Ora, oltre questa passione ne ho tante altre, ma una delle più sentite è legata ai film, quindi un po' per diversificare, per farmi quattro risate, un po' di chiacchiere con voi, vorrei realizzare delle recensioni in merito. Quindi, detto ciò, come si divide il video in due semplici parti? Nella prima, senza spoiler, ne parlerò in modo generico, quindi delle impressioni generali, mentre nella seconda con gli spoiler entreremo un po' più nel dettaglio, infatti vi consiglio prima di visionare il film. Ovviamente avviserò prima dell'inizio della seconda parte e potrete aiutarvi con l'indice. Detto questo, direi che con la premessa è tutto e possiamo iniziare con la recensione. Vai con la sigla! Iniziamo quindi con la recensione senza spoiler e vi dico fin da subito che il film mi è piaciuto parecchio. Ci sono delle riserve ma ne parleremo successivamente e dal mio punto di vista riesce a centrare in pieno l'obiettivo, essere una bellissima cartolina che fa conoscere a più persone possibili il fantastico gioco di ruolo da cui è tratto il film. Questo negli ultimi anni sta esplodendo, vuoi un po' per la nuova edizione, la quinta, parecchio più accessibile e vuoi anche per le continue citazioni della serie tv Stranger Things. Quindi l'Asbro non si è lasciata scappare questa opportunità e ha realizzato un film dai toni molto scansonati e divertenti. Effettivamente per le battute, il ritmo della pellicola per alcune situazioni ricorda molto lo stile dei film Marvel, in particolare dei Guardiani della Galassia e questa è stata sicuramente la mossa vincente. Adesso, il film può essere goduto un po' da tutti, sia da chi ama il fantasy o comunque vuole vedere un film senza troppi pensieri, però se lo gode maggiormente un giocatore di ruolo e in particolare chi conosce quel mondo. Ad esempio, io che ci gioco da tantissimi anni ho potuto comprendere meglio alcuni riferimenti e alcune citazioni. La trama si sviluppa in modo molto semplice, senza particolari twist o colpi di scena e vediamo un gruppo di ladri che cercano di mettere a segno il colpo della loro vita. Sinceramente, la prima parte del film è quella un pochettino più lenta e blanda, mentre la seconda e la terza parte si riprende alla grande. Durante la visione ci sono effettivamente delle lungaggini e qualcosina io l'avrei tagliata qui e lì in modo da ridurre la durata totale di 10-15 minuti. I personaggi sono stati realizzati piuttosto bene, anche se qualcosina io l'avrei modificata o cambiata del tutto, ma poi ne parleremo meglio nella fase degli spoiler. Io ho apprezzato davvero tanto la qualità degli effetti speciali. Hanno mescolato un po' di computer graphics con gli animatroni, i cari vecchi pupazzoni che adoro tantissimo, e infatti state tranquilli che non vi ritroverete una computer graphics scialba o malfatta come succede purtroppo in tanti altri prodotti in tempi moderni, ma si vede che ci hanno puntato tanto su questo aspetto e la qualità ripaga. Anche le scene di combattimento sono state fatte piuttosto bene, i dialoghi ok, qualcosina effettivamente un po' fuori luogo però per il target del film ci sta, la parte comica alti e bassi, fortunatamente i bassi sono molto pochi e ci sono due o tre scene in particolare dove morirete dalle risate. Il problema è che anche sulle scene comiche, come buona parte del film, si possono godere maggiormente se si è giocato per tanti anni al gioco di ruolo, perché rivedrete tantissimo molte delle sessioni giocate con il master rappresentate in chiave comica. Io direi che è successo un po' a tutti che una situazione seria ed epica in un gioco di ruolo si sia trasformata in un fiasco o in una roba rocambolesca e comica. Altra cosa, si vede che il film è stato realizzato con cura perché vengono citati continuamente personaggi, luoghi o cose della controparte cartacea. Infatti, a parte un po' di inesattezze, sono rimasto sorpreso della fedeltà rispetto all'opera originale. Purtroppo in tempi moderni vediamo troppi stravolgimenti, alterazioni, modifiche che vanno a snaturarne completamente il messaggio, il contenuto, ciò che voleva significare inizialmente. Dunque direi un altro punto a favore del film. Concludiamo questa prima parte con la domanda, ma quindi tu lo consigli a chiunque? Beh, innanzitutto va inteso il prodotto di riferimento, cioè un film di intrattenimento. Se state cercando qualcosa di un po' più autoriale oppure profondo, ve lo sconsiglio, avete proprio sbagliato genere e tipologia di film. Mentre siete sulla strada giusta se state cercando un film fantasy realizzato bene e purtroppo ce ne sono pochi ultimamente, oppure un film di avventura, barrazione, con un bel po' di comicità. Attenzione, non sto parlando di un capolavoro, non è uno di quei film di cui se ne discuterà per giorni, settimane, decadi e anzi ha pure dei difettucci qui e lì come ho detto in precedenza, però se potete dategli una possibilità perché il film se la merita. Detto questo si conclude la prima parte ovvero la recensione senza spoiler. Ho cercato in tutti i modi di rimanere molto vago sul generico per evitare di rovinarvi la visione del film. Adesso vi do giusto qualche secondo di tempo e poi iniziamo con la parte con gli spoiler. Allora inizia la seconda parte della recensione quella con gli spoiler, quindi ultimo avvertimento per cambiare video, tornare poi successivamente e in questa seconda parte approfondiremo alcuni aspetti, quindi parlerò anche un po' più liberamente. La prima cosa mi è piaciuto tantissimo che abbiano infilato un po' di tutto all'interno del film però senza strafare, cioè ci stava un po' nel contesto e in particolare c'è stata una buffata tra classi, magie, combattimenti, mostri, creature, luoghi. Hanno piazzato veramente tanta roba all'interno di due ore e passa di pellicola. Io pensavo di vedere una vicenda molto più ristretta invece ci hanno infilato un po' di tutto, maghi rossi, paladini, lich, draghi e addirittura personaggi molto famosi nei Forgotten Reams come Zastam, uno dei lich se non il lich più conosciuto dell'ambientazione. Devo essere onesto, non me l'aspettavo però non è tutto così rose e fiori. Allora innanzitutto il protagonista, ok è la mente quello che fa i piani, purtroppo falliscono non per colpa sua, però non ho notato una classe di riferimento rispetto al gioco, io pensavo fosse un ladro o un bardo, però se ci pensate bene, lui durante il film non fa nulla da bardo, ok suona un po' il liuto però finisce lì e anche da ladro non si rivela utile, non riesce a tagliare le corde, non va a scassinare alcun forziere, non va a derubare le persone, cioè si vede in modo molto marginale. Mentre gli altri personaggi sono caratterizzati molto bene dalla classe di appartenenza, in particolare per me hanno sfondato il drudo e il paladino, questo ha veramente vinto su tutti, al protagonista non sono riuscito a trovargli un'identità che mi ricordi qualcosa della controparte cartacea, che poi non tutti sono caratterizzati così bene o in modo fedele come ad esempio il barbaro. Ok che combatte, tenace, molto forte, fra l'altro il primo a cadere, come giusto che sia che succede anche nelle avventure di D&D, però mi è sembrato un po' troppo delicato, più un guerriero che un barbaro, infatti mi sono mancate frasi come vado in ira oppure in carica. Non ho capito nemmeno tanto bene la questione della patata perché si siano fossilizzati così tanto su questa preferenza, forse voi che ne sapete più di me potete chiarirmi le idee. La relazione con l'Alfling, sì, divertente, però un po' fuori luogo. Boh, ci sono delle cose che in questo personaggio non mi hanno convinto, mi è sembrata più una mamma guerriera che non un barbaro incazzato come ne vediamo continuamente durante le sessioni. Oltre ciò ci sono delle lungaggini, dei momenti che avrei proprio evitato e in particolare il rapporto figlia-padre con il protagonista perché, ok, abbiamo capito le prime quattro volte che lui cerca di riscattarsi in tutti i modi, che non è colpa sua, che lei lo vede come un vigliacco e lui vorrebbe rifarsi agli occhi della figlia, però dal mio punto di vista è stato dato troppo spazio a questa vicenda, qualcosina la si poteva tagliare qui e lì. Anche il personaggio del Lord di Neverwinter, ok, carino, però ci sono delle scene con lui assolutamente inutili. Ad esempio le discussioni con Serafina, la maga rossa, oppure gli abbracci con il barbaro. Non lo so, mi sono sembrato un po' delle scene piazzate tanto per farsi due risate oppure allungare un po' il brodo. Continuando con le cose che non mi hanno convinto, vi sono un po' di Deus Ex Machina, ad esempio quello del bastone. Ok che volevano fare la scenetta dove uno spiegava un piano impossibile per evitare l'attivazione di una trappola, però a un certo punto, eh, guarda nel sacco, ho preso un bastone che guarda caso viene utilizzato dal mago. Cioè mi sono sembrate le scelte che sono state piazzate lì per risolvere velocemente la situazione. Il film comunque è molto leggero, però in alcune parti un po' si esagera. Ultimissima nota negativa, ma questa è puramente personale, ho visto che ci si concentra molto sugli umani e sugli elfi, ok, spunta qualche halfling, tiefling, qualche razza secondaria, però dove sono finiti gli orchi o i nani? Penso ovviamente si terranno molto del materiale per il seguito, perché visto il successo del film secondo me si farà. Mi rendo conto che infilare tutto l'universo di Dungeons & Dragons è impossibile in un unico film, però mi avrebbe fatto piacere vedere determinate cose. Come detto nella prima parte ci sono tantissimi riferimenti nel film, in particolare non so quanti l'abbiano capito in sala, ma c'è il party degli anni 80 del cartone animato di D&D. A un certo punto del film i protagonisti devono combattere all'interno dell'arena, ci sono tre gruppi, uno dei tre non l'ho riconosciuto ma forse era volutamente anonimo, mentre l'altro riguardava questo gruppo che spunta nei cartoni animati. Divertentissimo il fatto che l'abbiano vestiti esattamente come negli anni 80. Oltre questo secondo me durante il film ci sono personaggi meglio riusciti rispetto ad altri, in particolare Druida e Paladino mi sono piaciuti tantissimo, e io che negli anni ho giocato un po' tutte le classi D&D mi sono ritrovato molto in quello che fa il Paladino durante la visione. Essere sempre composto, serio, puntare al bene, non può vedere degli atti empi o malvaggi, che poi nelle sessioni più cacerone questo si trasformava in un prenderlo in giro, oppure fare in modo che il Paladino non scoprisse cosa stava organizzando il resto del party. Anche le trasformazioni della Druida sono riuscitissime, in particolare la scena in cui sbatacchi a destra e a sinistra per terra la maga rossa, palesissimo riferimento a quello che succede a Loki nel primo Avengers. Però ho notato una cosa, la maggior parte dei personaggi secondari, o comunque i comprimari del protagonista, fanno delle cose, delle azioni che risolvono la situazione in modo molto da ladro. Inoltre detto questo ho visto, letto in giro, che il film è stato preso di mira per il Politically Correct. Allora sappiate che io sono uno tra i primi che se la prende parecchio quando succedono queste cose, ma qui non l'ho sentito per nulla. Innanzitutto stiamo parlando dell'ambientazione di D&D, dove tutto può essere tutto, però nella vicenda specifica non ci sono delle disparità evidenti. In particolare vi è la scena nel sottosuolo dove delle creature passano vicino ai personaggi e uno del gruppo dice questi attaccano chi ha un minimo di cervello, invece le creature passano e tutti vengono presi per stupidi, cioè nessuno è più intelligente di altri. Boh, in questo caso le ho trovate delle critiche piuttosto inutili. Invece spostandoci sul lato della commedia ci sono state alcune scene dove stavo morendo dalle risate, vabbè, tranne il discorso della presa per il culo del paladino, tutta la parte in cui risvegliano i morti. Adesso, chi ha giocato a D&D lo sa che finisce in quel modo, che escono delle domande che non servono a nulla. Oppure si becca il morto sbagliato, che è morto per altre circostanze o prima degli indizi che servono per l'indagine. Insomma, ci ho rivisto tantissimo le giocate che abbiamo fatto con il mio gruppo di anno in anno. Poi, vogliamo parlare del drago rosso ciccione che trovano nel sottosuolo? Io immagino che chiunque si aspettava una scena molto più epica, più seriosa e non si aspettava certo quello. Infatti, devo dire che quella scena mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo. Cioè, vedere un drago così obeso, perché noi nelle avventure siamo abituati a draghi che sono molto furbi, intelligenti e anche parecchio snelli e veloci. Invece, buona parte di questa scena si basa sull'obesità, sul fatto che questa creatura si muova con molta lentezza. Sicuramente è stata originale come trovata, però è strana, un po' particolare. Anche la città di Neverwinter fa sorgere parecchi dubbi. A esempio, il precedente Lord, che è stato messo da parte con parecchia facilità, ok che dietro c'erano i maghi rossi, c'era una cospirazione, però le forze dell'ordine, la legge, mi sembra poco efficiente all'interno di questa città ed è una delle principali dell'ambientazione. Mi aspettava altri gruppi di eroi, l'esercito, qualcuno che facesse rispettare le cose. Invece nel film nessuno indaga e tutto viene lasciato così. Anche i protagonisti che vadono, escono ed entrano continuamente alla città senza troppi intoppi. A parte questo, devo dire che il film è fatto bene, peccato per la prima parte perché inizia troppo lentamente, ci mette molto a carburare e viene dato spazio a dei dettagli inutili. Ok, la storia del protagonista è interessante, però ci giocano troppo sopra, cioè viene dato troppo spazio a questa vicenda. Anche la ricostruzione del vecchio colpo che è andata male, le ferite ancora aperte, si poteva sintetizzare parecchio. Per fortuna, poi il film si riprende alla grande con una seconda parte all'insegna della comicità e dell'avventura e una terza molto più action con la resa dei conti. Il film ha sì un finale, però lascia le porte aperte per degli eventuali sequel. Non mi dispiace la cosa perché io apprezzo molti i film che chiudono la vicenda, però lasciano sempre uno spiraglio poi per poterci costruire altre storie sopra. Perché è vero che i protagonisti sconfiggono la maga rossa, però vi è ancora il leech che sta creando calamità in tutto il mondo. Ah, quasi dimenticavo, ogni tanto nel film ci sono delle risoluzioni un po' banali o scontatissime, ad esempio quando muore la Barbara. Nel momento in cui è morta si capiva immediatamente che il protagonista avrebbe utilizzato la rediquia per far risorgere lei e non la moglie. Ci sta all'interno della vicenda e per il legame che si crea, però è davvero stata scontata come cosa. Avrei preferito sicuramente una risoluzione inaspettata. Detto questo, siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate, se vi è piaciuto il contenuto che ho creato, se volete che ne realizzi altri in futuro, vi piace più la prima parte, la seconda, insomma fatemi sapere cosa ne pensate. Commentate qua sotto, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!